Ciao popolo di Piccoli Magazine e benvenuti a Naltitude Club, c'è stata l'edizione di Master Queen Lombardia 2025 con me, Mistra Queen Lombardia 2024, Roxy Pical, ciao Roxy! Ciao Clizia, buonasera piccole, tutto bene? Io tutto bene, e te come ti è sembrata questa edizione? Allora, una fra le più belle degli ultimi anni, livello altissimo, concorrenti agguerrite, spietate quasi, ha vinto la migliore, posso dirlo, complimenti ancora Bianca Oliveira perché ci ha stupito sia sfilata che durante l'esibizione. E allora, grazie mille per essere stata qui con noi, e allora vuoi fare un saluto al popolo di Piccoli Magazine? Ciao Piccoli Magazine, vi aspetto sempre qua per il prossimo evento al Nautilus, ciao!